La marineria afanese rappresenta un'eccellenza per la nostra città, ci sono però delle difficoltà che stanno spingendo i nostri marinai a portare le imbarcazioni altrove. Per quale motivo? La flotta di Fano conta circa 60 unità, quindi potete immaginare quante imbarcazioni hanno bisogno di fare delle manutenzioni. In questo caso stiamo parlando del rimessaggio, che altro non è che portare la barca fuori dall'acqua per poter pulire, si chiama in gergo opera viva, ovvero la parte che è immersa nell'acqua, quindi viene tirata fuori dall'acqua, si pulisce per fare in modo che si idonea alla navigazione in qualsiasi momento. Questa operazione è un'operazione di routine e che deve essere fatta, sia essa un'imbarcazione da riporto professionale o professionale, e quindi ci sono dei tempi tecnici che devono essere rispettati per far sì che l'imbarcazione sia poi idonea alla navigazione. Cosa succede? Succede che a Fano questo servizio, ovvero quello del rimessaggio per le imbarcazioni commerciali e professionali, oggi è gestito attraverso il vecchio squero, così come si chiama in dialetto fanese, ovvero lo scivolo da laggio che c'è in prossimità del lungomare mediterraneo. Questo servizio è già un ottimo servizio, purtroppo gli spazi ridotti, assieme a un sistema di sollevamento delle imbarcazioni che non è idoneo a tutte le tipologie costruttive di imbarcazione, fa sì che almeno 20 o 25 imbarcazioni debbano andare a fare questa operazione, quindi questo rimessaggio altrove, sostenendo dei costi aggiuntivi legati al trasferimento dell'imbarcazione, legato anche allo stesso costo del rimessaggio, perché in questi porti si paga di più di quello che si potrebbe pagare a Fano, appunto perché non c'è una struttura, in teoria, in grado di poter supplire a questa mancanza. Perché a Fano c'è in realtà un luogo idoneo, ed è sostanzialmente il travel lift che noi abbiamo nella Marina dei Cesari, nel porto turistico della città. Quel luogo ad oggi si è adibito esclusivamente alla marineria da di porto. Cosa significa? Significa che se io ho un'imbarcazione con la quale non lavoro e quindi la tengo nella Marina dei Cesari, oppure vengo da qualsiasi altro porto d'Italia, posso utilizzare quell'infrastruttura, posso utilizzare il travel lift, posso utilizzare il piazzale e posso fare tutti i lavori della mia barca. Qualora invece io lavori con la mia imbarcazione, come in realtà fanno i nostri marinai, perché vanno a pesca e ci portano il prodotto sulle nostre tavole, appartengono ad un'altra categoria. In questo caso pare che lì non si possa fare questo tipo di servizio. Questo cosa comporta in realtà? Innanzitutto considerando i costi, 20 o 25 bar che comunque siano indotto da circa 100-200 mila euro all'anno, che la marineria di Fano spende altrove, piuttosto che spendere a Fano. Avremo una continuità di servizio perché le aziende che militano sul nostro territorio sono già in grado di poterlo fare, quindi non farebbero altro che allungare e dare ancora continuità lavorativa e continuità anche di posti di lavoro durante la stagione invernale e potremo sfruttare i piazzali che ci sono proprio per velocizzare questo processo, perché più posto ho, più riesco a lavorare barche contemporaneamente, meno tempo la barca sta fuori dall'acqua e meno tempo la barca spreca lavorativamente per l'anno. In questo caso qual è l'organo competente? Chi deve intervenire? L'organo competente dovrebbe essere la Capitaneria di Porto, insieme però al Comune di Fano in quanto relatore nei confronti del demanio. Oggi chiediamo all'amministrazione comunale di farsi carico di questo tema, perché crediamo che sia un segnale importante da dare alla marineria e quindi aiutarci a capire se è possibile dare un segnale positivo e accettare questa loro richiesta.